Galoppa il numero 2 di Pompon Pride, cerca di mantenere la corda per l'incoffa con Marco Basile, all'esterno il 3 di Paperino Sun con VP, passa Paperino Sun, a largo c'è Postal Market che cerca un posto in corda che in questo momento non c'è, si scompone il numero 4 di Postal Market, galoppa e si allarga. Quindi conduce dopo 14.3 un lancio Paperino Sun con VP, lo segue come un'ombra Marco Basile con Perlincoffa, è partito alla grande Pacchita Griff con Giorginio, mentre risale a largo lotto di Pachybride. 30.5 i 400 e l'otto di Pachybride va a stazionare ai lati di Perlincoffi, intanto 45.1 si viaggia da 1.15.3 con Paperino Sun che la mette sul ritmo. Risale Perlin esterne anche Romeo Gallucci con Paterno di Lima e va a prendere la seconda pariglia, ma 1.1 il mezzo miglio allunga Paperino Sun, non ammette assolutamente iniziative esterne, lo segue come un'ombra Perlincoffa, quindi Pachybride. E' messo bene anche il numero 12 di Pera da Hallob con Sabatino di Vincenzo. 1.15.6 ancora 15 di frazione, se ne va Paperino Sun con VP, prende 1.5 abbondante su Perlincoffa, quindi Pachybride. E gli altri sembrano oramai fuori dal discorso, almeno vittoria. Paperino Sun ha tre di margine su Perlincoffa, i due con ottimo vantaggio su Pachybride. Ma sembra che Paperino Sun possa tenere a bada tutto e tutti. Deve solo essere bravo VP a tenere il cavallo ben calmo, perché il palo intanto si avvicina e comincia bene VP con una bella vittoria, una sua pennellata, nei confronti del numero 1 di Perlincoff e terzo, il numero 11 di Pachybride. 1.59.8, quindi 1.14.8, 1.14.9 per Paperino Sun che, come avevamo detto, pennellato da VP. Infatti possiamo dire che dopo il traguardo il cavallo si abbandona in errore, ma fin sul traguardo VP è stato bravissimo a tenerlo in piedi. Ottimo ancora Perlincoffa, dimostra di crescere molto bene, si era già piazzato venerdì scorso sulla medesima pista. E terza l'arientrante Pachyda Griff. 3.1.11. Si comincia col segno di VP.